Ciao, io sono Francesca, sono tutor del progetto NAME Climate Change. In questo progetto abbiamo realizzato una mostra, una mostra fotografica accompagnata da delle interviste in formato video. È una mostra che parla di cambiamento climatico e di migranti ambientali. Questi sono i due macro temi. Le persone che abbiamo intervistato, grazie al gruppo di giovani che hanno collaborato con noi per questo progetto, sono persone che hanno vissuto il cambiamento climatico in diversi modi. Si parla appunto dei migranti climatici, si parla di persone che hanno vissuto il cambiamento climatico sulla loro pelle, magari riguardante il proprio lavoro o la propria vita quotidiana e si parla di attivisti, quindi persone che si dedicano, che dedicano la propria vita a fare sensibilizzazione e parlare del tema del cambiamento climatico. Queste foto sono foto un po' particolari perché ritraggono questi testimonial di cui parlavo prima e hanno la particolarità di avere il volto tagliato, in che senso, non si vede parte del volto. Questo perché? Perché parlando di cambiamento climatico, di migrazioni, queste persone sono persone che in qualche modo hanno perso qualcosa. Quindi da chi nasce il proprio paese a chi magari col cambiamento climatico ha perso casa o lavoro e quindi abbiamo pensato di dare questo taglio, in senso sia letterale che trasversale, alle foto.